Tutti noi abbiamo in casa almeno una pianta. La usiamo per allegrare il salotto, per dare un tocco di colore all'ambiente e il nostro rapporto si limita a questo, fornirle della luce e versarle dell'acqua ogni tanto. Quello che però ci sembra un organismo semplice e inanimato in realtà è dotato di un'intelligenza straordinaria. Siamo noi che non ce ne accorgiamo. Normalmente le persone ritengono che le piante non siano in grado di fare quasi nulla, poco più che dei mobili. Questo è un concetto completamente sbagliato. Siamo a Firenze all'INV, il Laboratorio di Neurobiologia Vegetale e proprio qui il professor Mancuso insieme al suo staff è impegnato in una ricerca unica e innovativa, dimostrare l'intelligenza delle piante. Qui abbiamo una pianta in cui sono stati inseriti degli elettrodi nelle foglie e nel fusto, simili agli elettrodi che si utilizzano in campo umano, per esempio per la misura degli elettrocardiogrammi o per gli elettrocefalogrammi. Ma se questa strumentazione misura l'attività cerebrale di noi umani applicandola a una pianta, cosa succede? Questo grafico misura l'attività elettrica all'interno della pianta e quando non viene toccata le lineette salgono e scendono con un andamento costante. Quando però il professore stringe una delle foglie è come se la pianta sentisse qualcosa, tanto che il campo elettrico subisce una variazione importante. I segnali elettrici che abbiamo visto sono prodotti direttamente dalle cellule della pianta, non è una maniera differente da quella che viene utilizzata dalle cellule umane. Ma con questa reazione la pianta cosa vuole comunicare? Per il momento non conosciamo quasi nulla di questi messaggi, non sappiamo se questi messaggi siano dei messaggi positivi o negativi, di piacere o di dolore. Se le piante comunicano al proprio interno, un esperimento dimostra che sono anche in grado di inviare messaggi ad altre piante. In tutti e due i contenitori ci sono delle piantine di mais. Al momento tutti e due questi gruppi di piante sono in condizioni ideali. Hanno l'umidità giusta e soprattutto l'ossigeno che permette loro di crescere. Poi a un solo gruppo di piante viene tolta l'aria provocando un pericolo serio per la loro sopravvivenza. Queste piante produrranno una molecola chimica che è il messaggio che passa attraverso questo tubo e arriverà in quest'altro gruppo di piante. E l'altro gruppo di piantine che continua a vivere in un clima ottimale lo ascolta il messaggio di pericolo. Anche se loro in questo momento non hanno nessun tipo di stress da mancanza d'ossigeno, inizieranno a produrre una serie di adattamenti che le renderanno resistenti per una futura mancanza di ossigeno. Ragionano, imparano, ma perché non ce ne accorgiamo? Le piante non sono per nulla immobili, anzi si muovono tantissimo, però su dei tempi che non sono uguali ai nostri, sono dei tempi molto più lenti. Infatti, per i propri esperimenti, il professore riprende il comportamento delle piante per giorni e accelerando i filmati si fanno delle scoperte incredibili. Quello che stiamo vedendo qui è un seme di mais che ha prodotto una singola radice e il movimento che vediamo è un movimento simile a quello di un bruco o di un serpente o di un verme, cioè qualunque animale non abbia le zampe e si debba muovere ha un movimento del genere. Quello che stiamo vedendo è una pianta di fagiolo che abbiamo ripreso per circa due giorni, vuole raggiungere un supporto e per fare questo le prova di tutte, cioè cresce, si allunga, si stira, si getta, ripete tante volte lo stesso movimento fino a raggiungere alla fine il supporto. Noi non sappiamo per come faccia la pianta a sapere dov'è il supporto, ma lo sa sempre e immediatamente è in grado di individuare il supporto e di dirigervisi. Normalmente quando devo convincere qualcuno che le piante hanno delle capacità cognitive mostro questo filmato. Ma tutti questi studi a cosa servono? Stiamo studiando le piante per costruire il primo plantoide al mondo, cioè un robot che è ispirato al comportamento delle piante. Questo robot cercherà di imitare le piante lì dove le piante sono più brave rispetto agli animali, per esempio nell'esplorazione dei suoli. Originariamente era stato ideato per l'esplorazione spaziale. Centinaia di plantoidi arriveranno, speriamo, un giorno su Marte, metteranno le loro radici meccaniche nel suolo e ci manderanno quindi informazioni sulla composizione del suolo, sulla presenza o meno, per esempio, di vita, di acqua o di particolari elementi minerali. E adesso chi ha il coraggio di mangiare un'insalata questa sera?